Siamo alla manifestazione Cinefilos ad Auletta e siamo in compagnia di Massimo Gaudioso, sceneggiatore del film Benvenuti al Sud. Massimo, quanto devi al film di grande successo Benvenuti al Sud? Devo tanto perché mi ha dato una grande popolarità e soprattutto mi ha fatto conoscere tante realtà diverse perché ho girato per il film, ho avuto un rapporto diretto col pubblico e ho sentito tante cose belle che non mi sarei mai aspettato di poter un giorno ottenere con questo lavoro. Quanto è importante avvicinare i giovani oggi al cinema? Secondo me è molto importante perché è un linguaggio che sta diventando sempre più accessibile e quindi a me piacerebbe vederlo come materia proprio di studio nelle scuole perché sarebbe molto importante riuscire a insegnare ai ragazzi a comunicare attraverso un linguaggio che è sempre più diffuso, con internet, la televisione. Io quando posso cerco sempre di partecipare a manifestazioni come questa cerco di andare nelle scuole, di fare anche delle seminari, lezioni così con i ragazzi proprio perché secondo me è molto importante sviluppare la cultura in generale e quella del cinema in particolare. Che messaggio ti senti di lanciare ai giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del cinema? Secondo me il cinema può essere un modo per raccontare il proprio mondo, la realtà che ci circonda e quindi magari un ragazzo giovane che vive anche in un paese piccolo, lontano magari dall'attenzione della città così può esprimere attraverso il cinema sentimenti, ideali, confrontarsi con altri mondi e quindi secondo me è molto importante, può essere un veicolo di conoscenza e per farsi conoscere e quindi insomma spero che siano sempre di più quelli che lo fanno.